Il potere dentro di noi è disposto a realizzare i nostri sogni più grandi e a donarci un'abbondanza enorme in un solo istante. Sei pronto a ricevere tutto questo? Se vuoi qualcosa l'universo non dice ci penserò. Risponde prontamente esaudendo il tuo desiderio ma tu devi essere pronto e aperto a riceverlo. Quando le persone stanno sedute con le braccia incrociate sul petto come potrebbero assimilare qualcosa in quella postura? Invece trovo che sia un gesto meraviglioso spalancare le braccia affinché l'universo lo noti e risponda. Ti invito a farlo adesso. Alzati in piedi, apri le braccia e afferma. Sono aperto aperta e ricettivo ricettiva a tutto il bene e a tutta l'abbondanza dell'universo. La prosperità può includere molte cose. Denaro, amore, successo, benessere, bellezza, tempo, conoscenza. Se crei prosperità parlando o pensando in termini di mancanza, concentrandoti su di essa, crei solo altra mancanza. La mentalità di povertà porta altra povertà. Invece la mentalità di gratitudine produce altra abbondanza. Sii consapevole delle convenzioni che potrebbero bloccare il flusso di denaro e prosperità nella tua vita. Poi, per cambiare queste convenzioni, puoi creare una nuova mentalità di abbondanza. Se hai problemi economici, la cosa migliore che puoi fare è sviluppare una mentalità di prosperità. Ci sono due affermazioni, soprattutto queste due, sulla prosperità che funzionano bene per me e sono certa che funzioneranno anche per te. Eccole. Il mio reddito aumenta costantemente. Il mio reddito aumenta costantemente. E la prosperità mi segue ovunque io vada. La prosperità mi segue ovunque io vada. Quando qualcosa di buono entra nella tua vita, accoglielo dicendo sì, apriti a ricevere il bene. Di di sì al tuo mondo. Le opportunità e la prosperità così si centuplicheranno. Almeno una volta al giorno, ma consiglio più volte possibile, spalanca le braccia e afferma con gioia. Sono aperto, aperta e ricettivo, ricettiva a tutta l'abbondanza dell'universo. Grazie, vita. La vita ti sentirà e ti risponderà. Affermo. La vita soddisfa tutti i miei bisogni con grande abbondanza. Ho fiducia nella vita. La vita soddisfa tutti i miei bisogni con grande abbondanza. Ho fiducia nella vita. Se desideri portare più denaro e prosperità nella tua vita, ripeti queste affermazioni in modo sentito. Sono una calamità per il denaro. Attrago prosperità di ogni genere. Attrago prosperità di ogni genere. Al lavoro sono profondamente apprezzato, apprezzata e ben pagato, pagata. Vivo in un universo amorevole, prospero e armonioso e ne sono grato, grata. La vita mi dà in abbondanza tutto ciò di cui ho bisogno. Mi fido della vita. Mi fido della vita. Mi fido della vita. Lascio andare ogni resistenza al denaro e gli permetto di fluire gioiosamente nella mia vita. Il mio bene arriva da ovunque e da chiunque. La forza sta nella pratica. Vi auguro di praticare ogni giorno sempre di più e i risultati sono inevitabili. Buona pratica e buona giornata. Grazie. 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 Grazie.